Debutterà giorno 13 aprile al Teatro Margherita alle ore 18.30 a Inri, il nuovo spettacolo della compagnia Teatro Stabile Nisseno con la regia di Francesco Miceli. È una scommessa, dice Giuseppe Speciale, il direttore artistico, in questa grande epoca di crisi del teatro legata al Covid, poter ancora una volta produrre uno spettacolo tutto nuovo. Lo abbiamo voluto fortemente per donare alla città cultura e teatro e di questo non ci stancheremo mai. Il gruppo teatrale farà rivivere le ultime ore di vita di Gesù. Il pensiero è andato al Cristo Nero e alle ladate, dice Ancora Speciale. Le abbiamo raccolte con gli autori, abbiamo realizzato il nuovo spettacolo partendo proprio dai testi antichi di questa lamentanza che ci racconta la passione di Cristo quasi in forma teatrale. 15 canzoni originali del maestro Corrado Sillitti, le coreografie di Paola Pecoraro, luci di Davide Lavalle, suono curato da Angelo Rizza e i costumi realizzati dal laboratorio TSN. In scena con Salvina Fama accanto a Giuseppe Minelli e Manocere da Paola Pecoraro, anche Luca Lombardo, Francesco Andrea Paolillo, Valentina Giganti, Concetta Amaradio e Andrea Giglia.